Maria Bartossoe Revisore Maria Bartossoe Revisore Maria Bartossoe Revisore Maria Bartossoe Revisore Maria Bartosso Revisore Maria Bartosso Revisore Maria Bartosso Revisore Parto avvantaggiato, sono fortunato perché con un cognome così, Putanu, è già controverso abbastanza per parlarne per ore, purtroppo non avremo il tempo. Oggi vi voglio parlare invece di un argomento che ci accomuna un po' tutti, ovvero scelte controverse e felicità. Chi di voi si è accorto che da adulti è un tantino più difficile essere felici rispetto a quando eravamo bambini? Sulla mano. Questa foto che vedete alle mie spalle è, fotografa, probabilmente uno degli istanti più felici della mia infanzia. E non perché era successo chissà che cosa, dici chissà cosa era accaduto, avevo appena ricevuto una mountain bike, una bicicletta e quello bastava per rendere di me il bambino più felice del probabilmente quartiere. Putano non è un cognome sardo, come potrebbe sembrare, come spesso mi hanno confuso, ma sono nato e cresciuto in Romania per i primi dieci anni della mia vita. E questi primi dieci anni sono stati un tantino controversi. Anzi, la prima scelta controversa che ho fatta, la prima scelta difficile l'ho fatta, me l'hanno raccontata perché non ero ancora nato, ho scelto di nascere a sette mesi. Questo avrebbe potuto complicare un tantino le cose, ma per fortuna sono ancora qui a raccontarvelo. E in questi dieci anni le cose non sono state proprio facili per me. Ho vissuto con i miei nonni, gran parte dei primi dieci anni, appunto circa quattro anni della mia infanzia li ho passati a casa dei miei nonni, in un paesino sperduto della Romania dove praticamente non c'era acqua corrente in casa, per fare i bisogni si andava fuori in un giardino. E so che può sembrare una storia strana raccontata oggi. E quel momento, quel momento di felicità e di gioia mi ha determinato a scegliere quest'argomento oggi, che penso sia fondamentale un po' per tutti noi, perché tutti, tolti tutti i fronzoli, tolti gli oggetti, tolte le cose che inseguiamo nella nostra vita, a mio modo di vedere le cose abbiamo due risorse che sono particolarmente scarse, ovvero energia e tempo. Se ci pensiamo, tutti noi abbiamo un tempo limitato, oggi ne abbiamo parlato un po', e paradossalmente passiamo un terzo del nostro tempo per dormire e ricaricare le energie. Eppure, molto spesso, facciamo l'errore di trattare queste risorse con sufficienza, come se fossero illimitate per noi. E quindi il ragionamento che vorrei fare insieme a voi e soprattutto in questa giornata dove voi avete fatto una scelta, avete scelto di vestirvi, di prendere la macchina, il treno, qualcuno l'aereo magari per essere qui. Perché siete qui? Perché avete scelto di utilizzare la vostra energia e il vostro tempo di oggi per essere qui? Penso che sia fondamentale capire perché facciamo quello che facciamo. Capire la ragione che ci spinge a decidere probabilmente influenza le azioni che faremo, che influenzeranno i risultati che otterremo. E se ci pensiamo bene, la nostra giornata tipo, quello che viviamo in una giornata tipo è un po' la fotografia, la miniatura della nostra vita. Ecco, venire qui non è stata una scelta controversa o difficile. C'è una storia che magari qualcuno di voi ha già sentito di due fratelli, due gemelli che nascono in una famiglia con particolari difficoltà. Il padre, un alcolizzato che abusava di droghe, che tornava a casa sempre ubriaco, picchiava la moglie, picchiava i due bambini. Insomma, la situazione nella quale nascono, crescono e imparano le prime cose, questi due ragazzi, è alquanto difficile. Il tempo passa, loro diventano adolescenti, il padre addirittura viene rinchiuso in galera per una delle sue bravate e loro prendono due strade totalmente diverse. Uno di loro diventa un criminale praticamente alla stregua del padre, la fotocopia. L'altro diventa un avvocato di successo, super rispettato. Quindi com'è possibile che due persone così uguali, due persone che hanno vissuto la stessa situazione, stessi insegnamenti, stessa famiglia, finiscano e decidano di vivere un destino così diverso. Questa è una scelta un tantino più difficile e controversa. E io sono convinto che le piccole scelte, il modo in cui decidiamo le piccole cose, influenza alla lunga come decideremo le grandi. Ed è proprio qui il ragionamento che vorrei fare insieme a voi. Mi hanno sempre detto, l'abbiamo sentito anche oggi e lo sentiamo spessissimo, che i nostri pensieri generano le nostre parole che poi portano le nostre azioni. Quindi i nostri risultati sono direttamente collegati ai nostri pensieri. L'avete mai sentito questo? Io mi sono sempre chiesto quando sentivo questa affermazione, ok, che cosa determina i nostri primi pensieri? Se i nostri pensieri portano ai nostri risultati, allora che cos'è che determina i miei primi pensieri? E mi sono appassionato nel mio viaggio, nelle mie tante scelte controverse, ve ne racconterò solo un paio, mi sono appassionato di neuroscienze, di neuromarketing. Quindi ho iniziato a approfondire i meandri della nostra mente, di come funziona il nostro cervello. E ho scoperto che i nostri pensieri, i nostri primi pensieri, vengono generati dalle esperienze che viviamo fin da piccoli e dalle persone che ci circondano. Cioè noi impariamo per due ragioni, per due cose. Emozioni che viviamo e imitando le persone che ci circondano. Infatti pensando poi a quando ero piccolo, aveva senso, perché non mi bastava che mio nonno, mia nonna mi dicesse non toccare il forno perché scotta. Dovevo andare lì, toccarlo, scottarmi e dire ok, dolore, non lo voglio più toccare. Perché ero piccolo, un bambino, non avevo quel pensiero formato. Quindi emozioni contro pensieri sono la dualità con la quale noi decidiamo e con la quale scegliamo di fare le azioni che facciamo ogni giorno. E qui c'è il trucco che ho scoperto. E quando l'ho scoperto ha cambiato radicalmente il mio modo di decidere le piccole cose e anche le grandi cose nella vita. E il trucco è questo. Le emozioni sono il linguaggio che utilizza il nostro inconscio. I pensieri sono il linguaggio che utilizza il nostro cervello razionale. Ecco spiegato il motivo per cui sappiamo razionalmente talmente tante cose e hanno senso, come ad esempio fumare fa male, come ad esempio fare una determinata cosa fa male o come ad esempio banalmente vorrei smetterla di mangiare schifezze perché voglio mettermi in forma. Razionalmente lo sappiamo ma l'emozione che associamo invece a quel gesto, a quella determinata cosa, a quella determinata azione è più forte e l'emozione contro il pensiero vince sempre. Vince sempre l'emozione. Quindi vorrei condividere con voi un metodo che ho utilizzato e che mi ha aiutato nella mia vita, nella mia esperienza a fare scelte controverse, fare scelte che sono considerate folli, forti. Ovvero invece di pensare, invece di prestare attenzione semplicemente al pensiero, alla logica, di prestare attenzione le nostre emozioni. Di chiedersi soprattutto, quando avrò 97 anni, che emozione sarò felice, fiero, soddisfatto di aver vissuto in quel determinato momento. Ad esempio quando a 27 anni ho deciso di abbandonare, lasciare il mio lavoro che era considerato sicuro, con tutti i benefit, con la macchina, con il telefono pagato, con tutta una serie di cose che i miei amici dicevano wow, sei fortunato. E ho deciso di lasciare tutto per andare a vivere su un'isola, cambiando lavoro, per guadagnare meno, inizialmente, non sapendo quale sarebbe stato poi il futuro che mi aspettava, per inseguire una mia passione, un mio sogno. Ma quando l'ho fatto, quando ho dovuto fare una scelta così forte, contro i miei familiari, contro tutti quelli che mi dicevano una pazzia, dove vai? Cosa ne sarà di te? Stai lasciando qualcosa di certo, di sicuro per qualcosa che non sai che cos'è? Mi sono chiesto, di cosa sarò più fiero quando avrò 97 anni? Di aver inseguito un mio sogno, di aver fatto una scelta forte, di aver fatto una scelta controversa, o di aver giocato sul sicuro, di aver aspettato, di essere stato lì fermo? Lì è stato facile fare i bagagli e decidere. O come ad esempio dopo, quando a 30 anni ho deciso di lasciare di nuovo una postazione di sicurezza e garanzia che avevo raggiunto in quell'azienda per poi decidere di aprire la mia attività e diventare un imprenditore nonostante nessuno nella mia famiglia fosse stato un imprenditore prima di me. Quindi ancora una volta cosa stai facendo? Ecco, penso che chiedersi, farsi queste domande possa darci una risposta che alla lunga ci renderà soddisfatti. Voglio dedicare questo mio intervento oggi a una persona. È una persona molto speciale che è mia mamma. Perché spesso sono le persone che abbiamo attorno a noi che ci insegnano, come abbiamo visto, le lezioni più forti. e mia mamma mi ha insegnato la lezione più controversa di tutte. Non c'è più da poco più di un anno e lei nell'ultimo periodo ha sofferto veramente tanto per una malattia e nonostante la sofferenza, nonostante il dolore, nonostante quello che provava, anche nei suoi ultimi momenti trovava il modo per pensare a me, per pensare ai miei fratelli, per pensare agli altri. Trovava il modo per confortare lei e noi e per donarci un sorriso. quindi la lezione più controversa di tutte che penso ci abbia insegnato è che la maggior parte dei genitori si concentra tutta la vita a insegnare ai propri figli come vivere, mentre lei ci ha insegnato come morire. Per concludere penso che quello che farà la differenza quando avremo 97 anni sarà che emozioni avremo provato, che emozioni avremo fatto provare, chi avremo ispirato e da chi ci saremo fatti ispirare e chi sarà con noi al capolinea. Grazie. Grazie.